Da Peschiera a Jesolo la cronaca riporta a galla il tema dell'abuso di alcol tra i giovani, risse, schiamazzi, moleste, ma anche le vite spezzate sulle strade del sabato sera. I sindaci corrono ai ripari emanando ordinanze anti-alcol, le questure alzano il livello di guardia. Oltre alla repressione invocata nell'emergenza, bisogna puntare sulla prevenzione, questo l'obiettivo della collaborazione tra esercenti pubblici e magistrati con la campagna Bevi Responsabilmente. Lo vediamo nelle cronache di tutti i giorni, l'obiettivo nostro non è creare tensione o paure o mettere dei divieti, cercare sempre che le persone usino il cervello, evitando di avergli eccessi. Ciascuno di noi si deve sentire responsabilizzato nel momento in cui ha a che fare con i giovani per indirizzarli verso una strada, qualsiasi sia il lavoro che svolge. E siccome i giovani passano molto tempo insomma con i pubblici esercenti, perché è un luogo di piacere, di divertimento eccetera, anche a loro è da un compito educativo in qualche modo. Le situazioni più critiche avvengono fuori dai locali, spesso i giovani consumano per strada l'alcol acquistato nei supermercati. Baristi e ristoratori sono chiamati in ogni caso a non voltarsi dall'altra parte. Dovete vigilare, avvisare immediatamente la polizia quando rilevate situazioni di rischio o di pericolo, immediatamente comunicarle. Noi non chiediamo nulla di più, se non lo faranno ci saranno le sanzioni previste, soprattutto come sapete l'articolo 100, la chiusura per un tempo limitato dei locali.